Sulla ordine del giorno 71 così si esprime il Movimento 5 Stelle e questo è quello che scrive in particolare il collega Frongia. Il piano casa regionale che ci accingiamo a votare attraverso la delibera che sarà posta in votazione dopo esautora sostanzialmente il comune da qualsiasi decisione e permette ai privati di aumentare le cubature e cambiare la destinazione d'uso degli immobili in barba al piano regolatore sostanzialmente perché si prevede di non passare più per il tramite dell'Assemblea Capitolina che pure è competente in materia di urbanistica. L'unico flebile paletto che rimane è costituito dall'obbligo per i privati che si avvalgono del piano casa di rispettare gli standard urbanistici, vale a dire che se vogliono aumentare le cubature residenziali su una determinata area devono poi poter provvedere ai metri quadri prescritti per i parcheggi, il verde e i servizi. Quindi a fronte di un aumento bisogna comunque rispettare determinati standard. In alcuni casi tuttavia questo piano scellerato prevede che i privati che non hanno la possibilità di garantire gli standard richiesti dalle normative possono avvalersi di parcheggi verde e servizi già esistenti pubblici. Ad esempio se occorre realizzare un giardino pubblico di una determinata estensione di metri quadri e non ho la possibilità di utilizzare un'area propria, però per esempio davanti casa c'è un parco pubblico, si possono sostanzialmente riversare, utilizzare questi metri quadri a compensazione, si possono riversare su questo parco pubblico, ripeto questa è un'area pubblica che viene utilizzata dal privato per compensare un'attività assolutamente privata e che viene utilizzata effettuata nell'interesse del privato in spregio dell'interesse pubblico. Ovviamente questa è una cosa che noi riteniamo inaccettabile, tali standard pubblici peraltro non possono essere concessi in automatico perché essendo per l'appunto pubblici dovrebbero richiedere un'approvazione da parte dell'assemblea capitolina e quindi noi consiglieri che siamo stati eletti dovremmo poter votare ed esprimerci su queste attività, cosa che con questo piano casa non viene consentito. Per cui noi riteniamo che eliminare questa possibilità e quindi esautorare l'assemblea capitolina sia assolutamente un vulnus da combattere e ci opponiamo quindi all'approvazione di questa delibera. Peraltro non capiamo perché alcuni partiti di maggioranza tipo SEL e lista civica tacciano su questo aspetto che mi sembra estremamente grave. Quindi vi chiediamo di votare a favore di quest'ordine del giorno. Grazie. Grazie.